Tutte le unità ai propri posti per un possibile protocollo anti-invasione, ripeto, nave non identificata individuata nell'orbita. C'è qualcosa sui nostri sensori. 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 Sono fuori dal mio schermo! Va, brava! Mi occorre assistenza al puttapietro di me! Perfetto! Fai rivedere chi sei! Mi farò a pezzo! Alla terra! Contatto avvenuto! Contatto avvenuto! Stabilizzo i loro corpi! Sì! 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 Vado a riparo! Raviglione! Raviglione! Mira i sensori, Chotika! Mira i sensori! Uno è eliminato! Non si può essere... ... 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